bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi c'è solamente un'altra missione nelle sfide della settimana numero 9 che dobbiamo affrontare che richiede semplicemente un video per farvi vedere dobbiamo cercare il lama d'oro di mida che è posizionato in mezzo a una discarica e ad altre location che a noi sinceramente non interessano perché non ci interessano perché ci basta raggiungere il quadrato g3 come vedete siamo dove c'è il ponte vicino al fiume lo capiamo bene perché notiamo che davanti a noi c'è ci sono le ciminiere di foschi fumaioli e una volta che entriamo in questo piccolo edificio qua in questa posizione troveremo il lama d'oro di mida quindi ragazzi una cosa veramente semplice da fare prendetelo prendetevi i vostri 40.000 punti esperienza io vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali di lasciare un bel like e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao